Ti arrabbieresti a dismisura se mentre stai passando nella linea ti esce un po' storta? Ti arrabbieresti se stai giocando a bowling e i birilli non cadono tutti al primo tentativo? Ti arrabbieresti tantissimo se il tost uscisse un po' bruciacchiato? Io non credo proprio. Quindi perché arrabbiarsi a dismisura, reagire al 3D se la persona specifica non ti risponde dopo 10 secondi? Perché arrabbiarsi se ieri hai fatto le affermazioni e oggi esci di casa e lo vedi in giro con un'altra donna che potrebbe benissimo essere sua sorella ma tu sei talmente arrabbiata da neanche pensarci a questa cosa? Allo stesso modo in cui il tuo stato di coscienza muta subito nel momento in cui vedi qualcosa di indesiderato nel 3D perché non invertire il meccanismo? Se vedi qualcosa che non ti piace e vuoi reagire, reagisci non sto dicendo che è qualcosa di sbagliato ma datti un tot di tempo. Sfogati, arrabbiati per 10 minuti. Allo scoccare della fine di quei 10 minuti, switcha immediatamente e torna nello stato di coscienza che c'era prima. Quando vedi qualcosa di indesiderato nel 3D, pensa all'alliner sbagliato o al toast bruciato. Mi dà fastidio, sì, ma non lascio che questa situazione rovini la mia giornata. Più lo fai, più vedrai che con il tempo riuscirai ad autocontrollarti.